veramente enorme, grosso e succoso, non come gli altri che puoi tenere con due mani e mettere in bocca come promesso dopo il viusto il gigante non potevamo non provare questo mostro di carne anche stavolta eravamo in 4 a prenderlo come consigliato ed è solo su prenotazione stavolta niente antipasto ma abbiamo fatto bene perché